Volunteer Summer Festival è la prima edizione di questo evento che appunto essendo la prima edizione è una novità nel genere, nel senso noi come protezione civile abbiamo un preciso compito che è quello di formare e informare la cittadinanza e la popolazione su tutte quelle che sono le azioni che ognuno di noi può fare per mettere la propria vita al sicuro. In quest'ottica abbiamo deciso di scendere in piazza una o due giorni di attività, di formazione, di esercitazioni organizzate però in un contesto di divertimento quindi di festival. 8 e 9 settembre un festival un po' diverso dedicato ai volontari di Genova che fanno conoscere quindi una realtà diversa di Genova anche ai turisti. Sì questo direi che è un altro messaggio, un messaggio positivo che fa parlare della nostra città e delle varie realtà che la animano e che anzi sono proprio quelle più presenti proprio nelle varie manifestazioni che si svolgono ed è un modo per dare spazio, lustro a loro che con il loro lavoro, con l'attività ci danno forte mano. Tutte le associazioni legate alla protezione civile, tutte le organizzazioni legate alla protezione civile in fase emergenziale quindi anche istituzioni come l'esercito italiano, la polizia di stato, i carabinieri, i vigili del fuoco e tutte le organizzazioni di volontari di protezione civile saranno in piazza durante il giorno a fare attività di protezione civile, di divulgazione di informazioni di protezione civile e alla sera ci divertiremo. Ci saranno degli spettacoli sia il sabato sera che il domenica sera, tutto in un contesto appunto di coordinamento e di attività congiunta tra tutti questi attori che in fase emergenziale sono bravissimi nel senso che fanno delle azioni quasi in maniera automatica, lo faremo anche in tempi di pace, quindi organizziamo una o due giorni di festa. Ecco Grazie a tutti